Allora oggi procediamo al sorteggio per due concorsi concorso per un dirigente medico di ortopedia e traumatologia e concorso per un dirigente medico di otorino laringoiatria come commissione diamo atto che procederemo al sorteggio dal ruolo nominativo regionale di un dirigente di secondo livello ora direttore di struttura complessa appartenente al profilo e al disciplino oggetto di questi due concorsi. Poi diamo atto che la data del sorteggio è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Piemonte numero 21 del 23 maggio e che il sorteggio e i sorteggi saranno effettuati dall'elenco nominativo del personale dipendente della regione e verranno estratti tre nominativi per ogni concorso un componente titolare, un supplente ed uno da utilizzarsi come riserva. Allora prendiamo atto che i dirigenti medici responsabili di struttura complessa inseriti nell'elenco regionale per l'ortopedia e la traumatologia sono 25 mentre per l'otorino sono 13. Per quanto riguarda il sorteggio utilizzeremo questi dieci numeri da 0 a 9 che inseriamo in questi contenitori e estrarremo tanti numeri, quanti sono le cifre che compongono il numero massimo dei componenti da sorteggiare, il primo numero contraddistingue le unità e il secondo le decine fino ad ottenere un numero rientrante in quello dei candidati all'estrazione. Quindi possiamo iniziare dall'ortopedia per il titolare. Unità, 5. decine, 2. Quindi 25 che corrisponde al dottor Uderzo Alberto Asio di Cio. si prende. Unità, 9. 2, non valido. 0, quindi 9. Supplente, dottor Chiappuzzo, Enrico Franco, Filippo Giovanni, Asdi, Alessandria. riserva. 5. 5. Sì, puoi lasciarlo fuori. 1. Quindi 15 corrisponde a Grognardi, Paolo Franco, Asda, città di Torino. Lo studiamo per l'ottor libro, il titolare. Unità? Sì, sono 13. 0, quindi non può che essere 10. Sì. Quindi 10. Scotti Antonio Asda B.C.O. Suplente. Suplente numero 9. 9. Quindi non può che essere 9. Pisani, Paolo, Asi, Asti. Sì. 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 Sì.